Per anni nel nostro paese il problema della povertà ha riguardato fasce marginali della società, mentre oggi è di tutta evidenza che tale problematica assume un rilievo e una estensione tali da interessarie ampie fasce sociali su tutto il territorio nazionale, peraltro aggravata dalla persistente crisi economica. Tale piega sociale colpisce ogni aspetto della vita e dà ripercussioni particolarmente gravi sulle condizioni di salute. È un evento importante sia per la tematica che viene affrontata, cioè povertà e salute, ma innanzitutto per le implicazioni che oggi comporta la crisi economica e l'impoverimento della società con le conseguenze, quindi con le ricadute immediate sulla salute. Questo nuovo tipo di povertà è vissuto con un senso di vergogna e di frustrazione dovuto alla perdita dei ruoli sociali e a un inasprimento dei rapporti familiari che a sua volta induce comportamenti deviati. La tavola rotonda di sabato pomeriggio sarà proprio finalizzato a conoscere meglio questo progetto, a trovare reti e alleanze per cercare insieme di affrontare una tematica che di per sé è molto complessa e che nessuno può avere la pacchetta magica per risolvere facilmente. È urgente dunque, da un punto di vista etico e morale, riflettere su questi temi ed elaborare soluzioni. Oltre il 90% delle persone che si avvicinano a noi sono persone che hanno o perso il lavoro o hanno un reddito insufficiente o hanno un reddito precario. Hanno in realtà, e questo ormai ce lo dimostra purtroppo la complessità del mondo di oggi, tutta una serie di altre problematiche che sono familiari, che sono di salute vera e propria.